Questa mattina la continassa blitz di Raffaella Pimenta, agente di Paul Pogba. Proviamo a capire perché, proviamo a capire anche meglio il futuro che potrebbe svilupparsi attorno a Leonardo Bonucci, del quale si parla tanto negli ultimi giorni in Casa Bianconera. Eccoci qua amici, bentrovati anche oggi. Vi chiedo di iscrivervi perché siete in tanti a seguire i video giornalieri, ma ancora troppo pochi ad aver fatto il tasto iscriviti. Fatelo, attivate anche la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati alla pubblicazione di contenuti. Like al video se ne avete piacere e soprattutto un commento. Oggi contenuto che andrò a sviluppare su due nomi, in particolare quello di Paul Pogba e quello di Leonardo Bonucci. Stiamo parlando ovviamente di due giocatori importanti all'interno dello spogliatoio della Juventus. Parliamo di Paul Pogba che ha ripreso ad allenarsi da qualche giorno in anticipo rispetto ai compagni che si andranno a radunare, quantomeno nella prima parte a partire da lunedì con l'inizio dei test atletici, poi i primi lavori sul campo. Il gruppo in realtà sarà quasi al completo a partire dal 17 di luglio, quando torneranno anche i giocatori che nel corso dell'estate sono stati impegnati in nazionale. Pogba in ogni caso servirà un programma individuale, verosimilmente fino alla partenza in tournée. E poi capiremo se nel corso della tournée americana avremo l'opportunità di vederlo all'opera in campo, nelle amichevoli in programma, quantomeno per qualche spezzone. Questa mattina alla continassa è arrivata Raffaella Pimenta, ovvero l'agente del centrocampista francese. Ora non mi risulta che la gente abbia incontrato la dirigenza della Juventus, tra l'altro l'arrivo di Cristiano Giuntoli e l'inizio ufficiale della sua avventura in bianconera è atteso per le prossime ore, nella giornata di domani credo a questo punto possa diventare ufficiale il suo nuovo incarico di responsabile dell'area sportiva della Juventus. Mi risulta che Raffaella Pimenta abbia semplicemente incontrato Paul Pogba, che è appunto rientrato da Miami e si è messo subito al lavoro al centro sportivo bianconero grazie al supporto dei preparatori del club. Un colloquio tra i due sostanzialmente per capire come sta il ragazzo, come sta vivendo questo momento. D'altronde Raffaella Pimenta già qualche giorno fa aveva incontrato la squadra mercato della Juventus per capire quello che è l'approccio del club nei confronti del suo assistito e su questo abbiamo già approfondito. È un approccio molto più cinico rispetto al passato perché Pogba oggi è il giocatore più pagato della Rosa, percepisce 8 milioni più 2 di bonus, rappresenta il tetto massimo d'ingaggio, la Juve per il secondo anno consecutivo non è nell'idea di volerlo supportare a fronte di un mancato apporto da parte sua sul campo. Quindi Pogba sta provando a recuperare, spera di rimettersi a disposizione di Allegri prima possibile di farlo nel migliore dei modi. Diversamente se le valutazioni del club non saranno positive sul giocatore al termine di questo precampionato ci si potrebbe risedere per capire effettivamente quale potrebbe essere il futuro di Pogba in questa Juventus. Magari si potrebbero aprire degli scenari per un ridimensionamento dell'ingaggio o addirittura per una clamorosa separazione in presenza di altre offerte. Al momento Pogba è concentrato sul campo, i primi segnali in questi giorni sono positivi. Ovviamente siamo ancora lontano da una percezione realistica sul supporto e sul contributo che potrà dare il giocatore in questa stagione. Raffaella Pimenta ha incontrato Pogba, non dovrebbe aver incontrato la dirigenza con la quale però ha un dialogo aperto che si andrà poi a rinnovare nelle prossime settimane quando tutti avranno maggiore contezza sulla condizione fisica del calciatore. L'altro nome sul quale si stanno sviluppando un po' troppo parole nelle ultime ore, negli ultimi giorni è quello di Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus ha ancora un anno di contratto, andrebbe in scadenza al 30 giugno 2024 e per quello che mi risulta ancora oggi lui si sente pienamente nel progetto del club anche perché nessuno al momento lo ha messo al corrente della volontà della Juventus di farne a meno. Credo in questo senso vada chiarito un aspetto fondamentale. È chiaro che oggi Bonucci non può pretendere a un ruolo da titolare nella Juventus della nuova stagione, verosimilmente è il quinto difensore del reparto. È un giocatore però che ancora oggi non si vede con un'altra maglia, se non quella bianconera, è qualche giorno fa. È stato abbastanza esplicito il suo messaggio pubblicato sui canali social ufficiali. Stiamo parlando di un capitano della Juventus, stiamo parlando di un giocatore che merita il rispetto di tutti per avere scritto pagine importanti della storia del club e se il club non dovesse vederlo nel suo futuro prossimo avrebbe invece il dovere di comunicarlo magari attraverso l'ultimo dirigente che è arrivato ma arriva proprio per mettere ordine all'interno della struttura societaria. Mi riferisco ovviamente a Cristiano Giuntoli che non ha ancora avuto un contatto neanche telefonico col capitano bianconero. Credo questo contatto ci sarà nelle prossime giornate. Capiremo poi in che termini si svilupperà il primo dialogo tra il dirigente e il giocatore più rappresentativo dello spogliatoio in questo momento. Quello che sappiamo è che Bonucci da qualche giorno sta lavorando all'interno della propria residenza in Toscana, residenza estiva al mare in Toscana, lì ha tutto quello che serve per rimettersi a posto fisicamente, ha riattaccato la spina dal punto di vista mentale, è pronto per avvicinarsi all'inizio, alla sua nuova stagione, programmata nel suo caso al 17 luglio, proprio perché in estate è stato impegnato in nazionale. Dopodiché capiremo se effettivamente Bonucci potrà avere ancora futuro in questa Juventus. Lo ripeto, se la Juve non lo vede più nel suo futuro, ad un certo punto dovrà comunicarlelo al momento. Né il giocatore né tantomeno il suo agente Alessandro Lucci hanno ricevuto comunicazioni ufficiali da parte del club, c'è abbastanza speculazione giornalistica attorno alla sua posizione, è sicuramente una posizione diversa rispetto al passato, è evidente che Bonucci oggi non è un giocatore sul quale si può costruire il futuro del nuovo ciclo bianconero, ma è un giocatore che, avendo rappresentato la storia della Juventus, può sicuramente trasmettere valori importanti ai giovani che ci sono e che magari arriveranno nel suo ruolo. È chiaro che dovremo seguire tutte le vicende attorno alla sua posizione, capiremo nei prossimi giorni, barra settimane, se qualcosa potrà cambiare nell'approccio del club, nei suoi confronti. Al momento non mi risulta che la Juve lo abbia messo in discussione, né tanto meno che lui abbia rifiutato un'offerta del Newcastle. Al momento su questo fronte solo smentite, lo ripeto, Bonucci sta lavorando già in questi giorni nella sua abitazione a mare per rimettersi a posto fisicamente e per attaccare la spina con la Juventus alla Continas a partire dal prossimo 17 luglio, in attesa di eventuali novità che al momento non possiamo escludere, ma non vengono preventivate.